Benvenuti in questo nuovo video di Fall Guys Quest'oggi facciamo le olimpiadi meme all'interno del gioco E' un'idea di laser beam che fa di solito su Fortnite e noi la facciamo su Fall Guys Come funziona? Ogni volta abbiamo degli obiettivi particolari e dovremo cercare di farli Ad esempio in questa mappa l'obiettivo che vi darò è che vince tra di noi Che arriva per primo, ma proprio primo 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 Se non ci riusciamo dobbiamo provarci ovviamente in altre mappe In ogni mappa avremo obiettivi differenti e faremo un punto ogni volta che qualcuno di noi riuscirà a completare un obiettivo Vedremo alla fine del video chi avrà fatto più punti Parto in ultima linea, quindi arriva al primo, lo tolgo già dalla questione al primissimo round E siamo anche in compagnia di Matte, che in effetti non l'ho specificato Ciao No, mi sono dimenticato che ho cambiato il tasto del salto Io non sono entrata C'è ragazzi, sono da solo e non mi avete detto Esatto Cioè voi mi avete fatto fare tutta l'intro Sì Pensavo che avessi chiuso il party pure tu, poi ti hai sentito giocare Vabbè, ciao Sam, vai da solo Live show Grazie di questo per l'inizio Perfetto Riandiamo Questo è il vero inizio, l'obiettivo rimane lo stesso perché la mappa è la stessa Allora, sono in terza linea, non è male Anche io, terza linea Terza e quarta linea siamo Ok, io ultima, perfetto Let's go Allora Vediamo, 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 vediamo Ma? Ok No, ma non steso No, vabbè Ok, ok, concentrazione Eh, hack No, vedo gente che vola, raga Hack Dai, no Forse anche più di uno Io ne vedo due che volano, Steph Per il primo minigame direi che è andata Ah, e facciamo il primo senza hack Cioè, che vuoi che ti dica? No Tanto non ci sei arrivata prima uguale, quindi Infatti, comunque, primi non arrivavamo Però ci qualifichiamo tutti? Non lo so, mi tengono, mi tengono Pere no Come no? Sì Sì Stesso obiettivo, chi arriva primo? Oltre gli hacker Oltre gli hacker Perché, signori qua, non penso che possiamo andare più vicino degli hacker Allora, forza, eh Qui ci posso riuscire Toi order, raga Qua ci posso riuscire Allora, qui per me, primo è difficile Vabbè, ultima linea Non ci posso credere Vabbè, pure io, cavolo, quasi ultima È già tanto se mi qualifico così Eh, da non esagerare Let's go Mi hanno sbalzato Anche a me Aiuto Oh, sono salvo, è già qualcosa No, 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 non cadere Perché devi sempre cadere Reggi, 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 reggi Allora, stavolta non stanno hackerando Facciamo così, cambio di sfida Vai Vince e che arriva ultimo Quindi che arriva trentesimo Ma dai, perché non l'hai fatta prima? Ho vinto io Porca miseria, sono un campione ad arrivare ultimo La campioncina Allora, di vostro Matteo, no No, ragazzi, c'è una pedana super in verticale Non so come fare Ok, ok, ok È sempre la rosa, ragazzi È la pedana maledetta Guarda, guarda, guarda Mi sa che io arrivo ultimo Ma senza farla apposta Veramente Dai, sistemate Ragazzi, non fa ad andarci Stano caschi di sotto Visto gli altri provarci Ciccacchi Ok, io sono andato Non riesco Ok, forse era sì Forse era sì Allora Sarà una sfida veramente incredibile Arrivare a ventinovesimo Ok Secondo me va malissimo No, dai, io ci riesco Sono fiduciosa delle mie non abilità Nel caso a farello farebbe due volte di fila No, Rosa Che cazzo No, sento mi subito Comunque io continuo a dire Che in sta mappa il rosa si impenna più facilmente Anche secondo me Perché è sempre quella È sempre quella Esatto Ragazzi, impegniamoci Vai, fate scendere sta pedana No, Stef, non scende Stef, non scende È scesa, è scesa No, non scende Ok, io sono alla fine Guarda, 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 guarda Allora Occhio che mancano pochi posti, raga Eh, lo so Che ti devo dire La pedana sta cazzo Allora Ok 19, 20 21 22, 23 24, 25 26, 27 No, no Era un lì Stef, è stato eliminato Raga Oddio Ho fatto il trentesimo E ho eliminato Matte così Oddio Ferretto sei uscita? Sì Ok, possiamo uscire È ufficialmente il primo punto Delle Olimpiadi di Fall Guys È stato fatto da me Regola particolare per questo round Veramente interessante Vince la persona Che non viene colpita Da nessuna elica Che vince Tra di noi per primo Ah Questa è cattiva Non l'hai capita? No, l'ho capita Non puoi essere colpita Da nessuna roba Che gira Ok Ma devi arrivare prima Tra di noi Stef, ma io non faccio altro Che essere colpita Dalle eliche Cioè, questo è cattivissimo Allora, a me ha preso un player Metto anche il replay Tranquillamente Quindi per ora Non sono stato colpito Raga, io ce la sto facendo Tranquillamente Allora, aspettiamo l'elica Ho parlato Ma ha preso un'elica Ok, fare fuori Matte non ti ha mai colpito? No, no Ok Io te l'ho detto Stef, è impossibile Stiamo a fare con l'elica Oh, che rischio che ho preso Raga, io ce la sto facendo Pian piano, eh Tra iardino Matteo, credo che sono dietro di te Sicuramente ha preso Ho il dubbio, eh Ah, no, qua sono inciampato Tranquillo Sì, anch'io Sono inciampato Nooo Aiuto No, 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 no Ok Allora Ti sbaglio qua Raga Matteo in ansia Matteo in ansia Raga Ce l'ho fatta Sono dietro di te Non ci credo Oddio Oddio Eh, ce l'ho fatta Oddio Eh, vabbè Punto per Matteo Ferri, riesci almeno a qualificarti? Non lo so Ti ho appena vista volare via Eh, infatti, fai finta di niente Grazie Mi faccio finta di nulla? Sei l'unicorno, sì? No, chi vuoi che sia Eh, beh Dai, ma basta C'è la gente che mi rompe le scatole e mi tiene Ferri non si qualifica Allora, in questo ronto ci siamo solo io e Ferri Facciamo Chi tra di noi riesce prima ad eliminare un giocatore? Ok Allora Io all'inizio niente ci provo, non perdo tempo No, infatti, non ha senso Vediamo un po' Appena si velocizza Guarda questo Questo è l'infamone Buona sapersi Allora Ok, la scimmia Devo puntare la scimmia Mi sembra veramente scarsa Scimmietta, vieni qua Vieni qua, scimmietta Allora Ho preso quella sbagliata, mi sa Ah Mi elimino da sola Allora, è morto il piccione? Mi sono eliminato da sola, vale? No Eh, ho vinto perché ho killato il piccione Ok Però adesso cercherò di fare altre kill a sto punto Allora, vediamo Vai, ti voglio vedere No, vabbè, ma si sono già eliminati tutti Questo qua Eh, vabbè Ok Non ho avuto tempo Ok Bravo, Steph, bravo Grazie Allora, in questo minigame è molto semplice Nella zona finale Quindi nello slime finale Chi Il primo tra di noi che riesce a fare una kill Ok Buon divertimento Allora Trick col martello Trick col martello Dai Ok Eccolo Che campione sto ragazzo No, raga, ho fatto una caduta stupidissima Cioè Ma sei morta? Eh, no, ci sono ancora Però ho fatto una caduta davvero stupidissima Che mi rallenterà un bot Ok Eh, io non so c'è da fare il trick del martello Allora Venite qua Eccomi No Quanto sto rischiando di essere eliminato, raga No, Steph Vai, Matt Il primo che ci riesce tra di noi, eh No, questi due sono andati Aiuto Occhio, Matt Raga, ho perso Basta Mi stai mettendo stress con queste sfide Ma cosa vuoi da me? Ah, se mi mettissi Steph, uno, mi uno Steph, uno, mi uno Vai No, no, Steph Oh Buttalo giù, buttalo giù Occhio Occhio Eh, quello lì si è eliminato No, no, Steph Oh Fa tutto l'altro Qualcuno ha fatto una magia, Fede Ah, ok Io mi dissocio Giuro che mi è partito Allora Vediamo Guardalo, guardalo Uno, uno No, no, lo slime Corri Ok Vabbè è andata Non ce l'abbiamo fatta Però comunque è stato un bel round Secondo me siamo andati bene In undici probabilmente c'è la finale E sono interessato a vedere se ci sarà Perché se invece c'è il calcio Sarà più divertente Ok Cosa si può fare qua? Matte Siamo costretti Invece che a seguire la strada degli altri A continuare A tentare di trovare la strada giusta Ok Ok, quindi Va bene Quando si fermano tutti Noi dobbiamo essere quelli che continuano a provare Vai Ahia Ovviamente vince chi troverà la strada giusta Potremmo uscire entrambi Oh Steph Dove è lo Steph? Eh, Steph quello con le altre Allora Ok Ok Corri Steph Dai, tu hai sempre fortuna Ce la puoi fare Quindi ogni volta che arrivi Matteo devi continuare a provare Eccolo di nuovo Eccolo di nuovo No Sono caduto Aiuto Allora Ok Ok Ma questa è una follia Sbloccate qualche altro blocco Oddio Ho filato E va Ce la fa Addio raga Ragazzi, incredibile Ho beccato tutto Ho beccato Una roba fuori di testa Hai avuto una fortuna incredibile E allora che era assurda E ora io sta finale me la faccio E ora te la vinci pure E ora me la vinco pure Tenetevi tutti pronti È il momento Allora Io sono abbastanza sicuro Che se tenessi la coda Riuscirei a tenerla Fino alla vittoria E allora prova Ecco Ragazzi Ho partito con la coda La coda Non ho partito con la coda Allora non hai niente da dire, Steph Mi dissocio Non è vero Non vinco Raga l'ha detto L'ha detto Non può più Non può più annullare la sfida Esatto Ormai l'ha detto Ok Mamma mia che ansia Bella coda Ma dove sono? Non sapevo niente di testa Che il punto Tranquillo Guarda, guarda Era tutta una strategia Ok Era tutto per mettere l'ansietta nel video Mi stavo scaldando Fata apposta Sì, 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 Steph Ok Ok Deveva essere imprevedibile E continua a rotolare Arrivano a lattina Uh, se la rischia? Eh, mannaggia Questo è bravo Ogni volta lui Signori Ma tu lo sei di più Vai No, la scinghia Oddio, vabbè Scappa Che disastro Scappa Vabbè Oh, perca miseria Eh, questo qua La pesa col wifi Sì, sì Ok Vai, vai, vai Parti di nuovo 23 secondi alla fine Forza, Steph Raga, non l'ho mai lunga È il tuo momento, Steph Non puoi perdere Ma da dove? Non l'ho mai visto Eh, il wifi, raga Il wifi Aiuto Latina Dai, ma perché questo sta bloccando a me Imbecile patentato Steph Niente No, Steph No, Steph Per colpa di questo Guarda, ti continuo a tenere Cioè, due volte mi ha tenuto Non ha senso Se vincesse quello che attiene di più Vincerai sempre in sto minigame Invece no Invece no Vabbè Andiamo alla prossima Fede ti sei qualificata? Sì Matte, tu ci sei? Io sì Giusto? Più altri due hacker, confermi? In questo momento? Io ne ho visti tre Ok Cioè, ho visto Matte Più altri due Ok Sicuro Allora, un hacker è stato eliminato Perché prima c'era anche un hacker Si è addormentato Vabbè, si è addormentato Non gli sono partiti gli hacker Oppure l'hanno bannato Strada facendo Esatto Allora, non lo bannano Vai, Fede Ce la fai Qua è l'unica che gli hacker possono Allora, Steph Mi dai un punto di incoraggiamento Perché è tristissimo Non potrò mai vincere E anche per avermi insultato Quando poi invece sei morto tu Ah, c'è di loro dei punti se ti insulto? Sì Ho capito Mezzo punto Allora, è onesto Ce la puoi fare Ma che stai attivando Fai la strada magica Guarda! Fai la strada magica Non guardare l'oro Ma sai, io sono molto No, eh vabbè Ma non è che ho provato a gareggiare Cioè, non esiste Nenche è arrivata a metà Fai schifo Chiunque tu sia Un applauso a questo campione Bravo, bravo Sì Ho provato Comunque è una dimostrazione Che bannano gli hacker È il fatto che questa Ha pure le emote E le skin E quindi c'ha l'account Dall'inizio del gioco Ah, molto, molto, molto bene Ragazzi, ci fermiamo Le olimpiadi sono divertenti Speriamo che in futuro Magari scompaia Erano un po' gli hacker Che non farebbe male Oggi, in qualsiasi partita Abbiamo giocato C'era un hacker Assurdo Almeno uno ce l'ha sempre Almeno uno sempre Sotto come sempre Compaio il video Oltre matte Iscrivetevi al canale E ci vediamo Alla prossima video Ciao Ciao